Ma ciao a tutti, oggi parleremo di due esseri che nella loro vita di sfiga ne hanno avuta ma a livelli divini, Stewie e Brian Griffin che in tutte le stagioni, ma proprio tutte cavolo, hanno avuto disavventure, così disavventurose che i ladri di mammo perso l'aero possono solo guardare. Ma durante gli anni hanno saputo anche creare un legame molto profondo tra di loro. Fatemi sapere quanto amate i Griffin da 1 a 10 e ricordatevi che se siete stufi di pagare centinaia di euro una cosa che ne vale la metà allora iscrivetevi al canale Telegram, di sconti ufficiali e se siete seduti o sdraiati o seduraiati cominciamo. Alla numero 10 sono incollati, non incollati come una coppia che si sbacciucchia 24 ore e dopo solo due giorni pensa di aver trovato l'anima gemella. No, letteralmente incollati per le mani. Stewie nonostante il suo altissimo QE e la sua voglia di dominare il mondo aveva deciso di mangiarsi della colla. Fortunatamente è stato fermato da Brian, che invece sfortunatamente è rimasto incollato a lui per giorni, creando situazioni alquanto strane e esileranti. Qua parliamo della stagione 3, precisamente episodio 19. Ah, i primi tempi in cui Stewie era ancora un cattivo vero. Alla fine tutto si è concluso bene con loro che hanno cominciato questa piccola amicizia che piano piano sarebbe cresciuta. E andando avanti alla numero 9 abbiamo invece un momento di pura stupidità ed euforia. Il povero Brian voleva soltanto dirne due a dei militari che hanno provato a reclutare Chris Griffin. Sì, quello che fa sembrare intelligente Peter. Ma prima ancora che potesse dire qualcosa, Stewie ha firmato il reclutamento per entrambi, portandoli a una serie di sfighe colossali. L'allenamento per esempio ha messo in difficoltà Brian, che in teoria è un cane, quindi come cavolo fa a non avere resistenza? Alla fine, capendo che la situazione stava sfuggendo di mano e facendosi trasportare quasi in una guerra vera, avevano deciso ecco di farsi del male a vicenda per uscirne. La guerra non fa proprio per loro. Alla numero 8 invece la sfiga di Brian raggiunge livelli illimitatamente sfigati. Beh sì, diciamo che questa relazione è quasi a senso unico, ma vabbè. Le prime serie erano davvero molto più fuori di testa di queste ultime. Brian aveva puntato dei soldi su Mike Tyson, che doveva battere Carol Channing. Un incontro di box il tutto con Stewie che faceva da strozzino. Insomma, Carol era un'attrice molto anziana ai tempi, quindi sembrava ovvio la vittoria di Tyson. Ma alla fine finita diversamente, Brian si è ritrovato a dover pagare un debito con Stewie, che a quanto pare come strozzino non ci va giù leggero, dando certe mazzate a Brian che non si è dimenticato di sicuro di questa situazione per molte stagioni. Stavolta il tutto si è risolto in un epico finale amaro. Mai, ripeto, mai essere indebitati con Stewie. Nella numero 7 ci ritroviamo in un episodio che somiglia quasi a un episodio di ricche morti. Brian aveva preso in giro Stewie per la sua statura e giustamente quest'ultimo, essendo un genio, aveva creato una macchina per pareggiare l'altezza. Ma alla fine in qualche modo finiscono per diventare microscopici. Anzi, all'inizio nemmeno tanto. Ma dopo aver confuso un tasto erano così piccoli da entrare nel mondo dei microbi e dei germi nel loro tappeto. Questo mondo somigliava moltissimo a quello che si poteva vedere nel primo episodio di ricche morti. O almeno a me sembra così. Dopo aver incontrato un migliaio di mostri abominevoli, e quindi vi sconsiglio di mangiare quando guardate questo episodio, riescono in qualche modo a tornare normali, anche se si erano portati dietro un paio di amichetti. Ma eccoci alla numero 6, quando i piccoli provano a fare gli adulti. Tutti almeno una volta abbiamo pensato di essere più grandi e maturi. Oh no, io per esempio a 9 anni ho provato a guidare una macchina. E poi mi hanno messo in punizione per una settimana, ma tranquilli, manco riuscivo a girare la chiave, quindi è tutto rimasto fermo. In questo caso Brian e Stewie erano stati lasciati da soli a gestire Chris e Meg. Addirittura Stewie ha sculacciato il povero Chris e tutto ciò, mentre Lois e Peter si stavano godendo una bella, più o meno, vacanza. Fare i finti genitori comporta anche finti impegni, quindi si sono ritrovati in un paio di situazioni alquanto ridicole e complesse. Ai giovani come fanno penare i genitori, proprio come ho fatto io, un giorno farò un libro sulla mia vita, ma come sempre questa è un'altra storia. Piese, sto seriamente cominciando a credere che ci sia un qualche rapporto intimo tra un cane e un bambino. E alla numero 5 forse la mia ultima affermazione può aver trovato un po' di ragione. Stewie rimane leggermente incintato. Si può dire per caso incintato. Non credo proprio, quindi lo dirò in modo un po' più normale. Stewie rimane incinto. Esatto, un bambino sforna altri bambini, dei piccoletti alquanto strani però. E non è finita qua. I bambini erano di Brian. Stewie si sentiva abbandonato dal suo cane in quel periodo. E dopo aver visto Bonnie e Joe che si divertivano con la loro di bambina, aveva deciso di prendere un po' del DNA di Brian e mettersi volontariamente incinto. E alla fine hanno venduto i figli rimanenti in un negozio di animali. E voi direte, ma che? Perché in realtà Stewie aveva scoperto di non amarli per niente e di averli fatti solo perché appunto il suo cane non gli dava attenzioni. Numero 4 multiverso. Beh, non come in Spider-Man. In questo caso le avventure nel multiverso che vivono Stewie e Brian sono leggermente diversi. Nell'episodio i due provano ad andare in mondi paralleli. Stessi personaggi ma temi diversi. Tipo un mondo Disney. Ma non tutto rosa e fiori perché ognuno di questi posti ha dei lati negativi. L'intoppo stavolta viene creato da Brian. E' voluto rimanere in un universo dove i cani dominano sugli esseri umani, tenendoli al guinzaglio. E di situazioni senza senso se ne trovano mille. Tipo Stewie che lascia la popò da raccogliere a Brian che era diventato il suo padrone. O l'impressionante figura di Brian in versione umana. Impressionante e inquietante. E se ve lo steste chiedendo, sì, Chris è un ritardato pure lì e preferisce leccarsi i genitali tutto il tempo. Ma quindi al numero 3 perché diavolo un cane dovrebbe lavorare per un bambino in ufficio. Beh, perché a Brian servivano soldi per liberarsi dei suoi problemi di vermi, diciamo. E la medicina costava 300 dollari. Stewie era disposto a prestarglieli se avesse lavorato per lui ad un progetto che si chiama Ciuccia Soldi. Una struttura piramidale dove il primo si becca tutto e gli ultimi, anche se hanno pagato o investito, non si prendono niente. Sono sicuro che sappiate benissimo cosa sia questa cosa. Stewie aveva così allestito la sua cameretta tipo ufficio con un unico dipendente, il suo cane. Non è stato tanto male, ma alla fine quest'ultimo è stato licenziato senza nemmeno la liquidazione. Wow, un po' come in Italia. E poi nella numero 2 abbiamo l'invasione dei robot ultra-intelligenti di Stewie. Una cosa di cui non si rende conto questo bambino è che è fin troppo intelligente. E in questa piccola disavventura forse se ne era reso conto. Sentendosi rifiutato da Brian ed essendo stato tradito da quest'ultimo che aveva usato le sue battute per un cabaret, aveva deciso di creare un robot che era stato programmato per diventare più intelligente con il passare del tempo. Dopo un paio di situazioni stravaganti era diventato così avanzato da riuscire a creare altri robot super-intelligenti che hanno preso il dominio su Stewie creando una gang vera e propria. Il tutto si è concluso alla fine in modo molto complesso. No, non è vero. Brian ha bagnato tutti i robot facendoli andare in cortocircuito. E finalmente siamo alla fantasmagorica fine di questa top abbastanza fuori di testa. La numero 1. Qui parliamo di un episodio che mi era rimasto in testa per molto molto tempo. Era iniziato diversamente dagli altri. Invece della sigla partiva tutto con Brian che voleva tirare fuori una cassetta da un cavo. Aveva tenuto nascosto in questa cassetta di sicurezza delle cose. Specialmente una pistola e ciò che salta all'occhio che a quanto pare voleva usare se la sua vita fosse andata a rotoli e finirsi quindi. Sfortunatamente i due rimangono bloccati in questo posto e da lì parte la sigla e poi la storia. Mi era rimasto in testa perché esplorava molto a fondo l'amicizia tra i due. Dopo alcune scene alquanto disgustose, tipo Brian che letteralmente ha mangiato le feci di Stewie e pure il vomito, eravamo arrivati a una parte di riflessione sempre per Brian che aveva mostrato allo spettatore che non era solo il cane che tutti pensavano fosse. Lui si rendeva benissimo conto che in questo mondo era tra i pochi cani a comportarsi da umano e quindi come ogni umano che si rispetti non aveva la minima idea di quale fosse il suo scopo nella vita, ma il piccolo Stewie ha saputo dargli questa ragione. Questo scopo che tanto cercava dicendoli che rendeva migliore la sua di vita. Dicendo poi che lo amava come il suo migliore amico, o forse anche di più, ma era molto ambigua la cosa, quindi lascio stare. E il tutto si è concluso con un silenzio tombale. Un episodio che vi consiglio di guardare assolutamente se volete rimanere colpiti dalla profondità. Con questo concludiamo queste disavventure. E sono solo 10. Immaginate in tutte le stagioni cos'altro hanno vissuto. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario, diversissimo.